Il Governo Renzi, dopo aver scritto con una manina l'articolo 19 bis al decreto delega fiscale che favoreggia i grandi evasori e riabilita politicamente Berlusconi, e dopo aver mantenuto con l'altra manina inalterate le soglie di sotto delle quali si può falsificare un bilancio societario senza essere penalmente puniti, adesso mette entrambe le mani sulle banche popolari presenti nel nostro Paese. Il Governo ha annunciato appunto che entro 18 mesi, con un decreto, le banche popolari che hanno un attivo superiore agli 8 miliardi di euro dovranno necessariamente trasformarsi in SPA, nell'ambito del decreto denominato Investment Compact. A differenza dei grandi colossi bancari controllati da pochi soggetti che detengono quote maggioritarie e ampio potere decisionale, le popolari costituite in cooperative hanno un limite di possesso delle proprie partecipazioni. Ogni socio non può detenere più dell'1% del capitale sociale, salvo che lo statuto della banca non preveda limiti più bassi. Hanno come principale scopo quello della mutualità e dell'assistenza, direi che è il caso di ricordarlo. La maggioranza, almeno relativa delle proprie quote o azioni, è detenuta dagli stessi clienti dell'istituto che, in cambio, hanno la garanzia di ricevere una porzione consistente dei servizi. Ogni socio, poi, ha un delitto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale. Dunque, a ogni testa corrisponde un voto. Non sono pertanto scalabili da parte di pochi soggetti e la nomina di ogni amministratore avviene con un ampio consenso tra tutti gli azionisti e detentori di quote. Mentre, come sappiamo, nelle società per azioni i voti sono attribuiti in proporzione al numero di azioni possedute da ogni socio. Insomma, con questo decreto assisteremo, o assisteremmo probabilmente, ad una svendita delle nostre banche popolari in favore di grandi gruppi internazionali, che una volta acquisite le stesse, inizieranno sicuramente a stabilire unilateralmente politiche speculative, decideranno come, quando e a quali condizioni concedere eventualmente prestiti, decideranno come investire i propri capitali e i risparmi depositati. E avranno un unico chiaro obiettivo, quello di lucrare e speculare quanto più possibile in una giostra con pochi controlli. Chi verrà danneggiato da tale operazione saranno come al solito le famiglie, i cittadini e le piccole e medie imprese, le quali dovranno sottostare e piegarsi alle logiche delle grandi lobby bancarie e finanziarie. Accedere al credito sarà sempre più difficoltoso e oneroso e maggiore sarà poi il rischio di perdere, in derivati varie operazioni di pura speculazione finanziaria, i propri risparmi. Il Governo ancora una volta, anziché rendere le banche più accessibili per i cittadini, più efficaci per il tessuto produttivo nazionale e volte l'interesse pubblico, rende gli istituti di credito sempre più privati e maggiormente speculativi. Il tutto senza alcun vero controllo e vigilanza, considerato il ruolo sempre più residuale della Banca d'Italia che, lo ricordiamo, è detenuta da altre banche private, le stesse che magari controlleranno le popolari. Interessante anche osservare come uno si può anche chiedere come mai il Governo ha deciso, senza sostanzialmente un preavviso, procedere con un decreto di una materia di questo genere. Ma, come molti hanno ricordato e sostenuto, c'è oggi in corso una indagine della Consob per un presunto aggiotaggio in borsa, visto che l'unico effetto che per ora ha ottenuto questo decreto è la crescita dei corsi azionari delle dieci banche popolari che sono oggetto di questo decreto, che poi ha visto una rapida decrescita dei valori in borsa proprio per effetto delle smentite plurime che sono arrivate all'interno della maggioranza di Governo. Direi che è il caso di sottolineare anche questo, potrebbe anche solo trattarsi di una meschina operazione finanziaria. Si è già accennato al progetto di autoriforma delle banche popolari. Allora, il mondo delle banche popolari o comunque del credito organizzato in società cooperative e non-SPA non è esente da problemi, non è stato esente da scandali. Io vorrei soltanto ricordare qui in Lombardia tutti i problemi che ha attraversato nel tempo la Banca Popolare di Milano e vorrei ricordare anche il caso di Credi Euro Nord. In entrambi questi casi è stata pesantemente coinvolta la Lega Nord, come sappiamo. in Lombardia abbiamo quattro almeno delle dieci banche popolari che sono oggetto del decreto Investment Compact, sono i due valtellinesi che io credo di conoscere bene, sono nativo della provincia di Sondrio, la Banca Popolare di Milano e l'Unione delle Banche Italiane che ha sede a Brescia e Bergamo. Quindi sicuramente è un tema che riguarda molto da vicino Regione Lombardia e su cui il Movimento 5 Stelle è molto sensibile sia a livello nazionale appunto sia a livello di Regione Lombardia. Dicevo, un progetto di autoriforma è in corso, io credo che se il Governo, da parte all'interno del stesso mondo delle banche popolari, io credo che se il Governo vuole mettere mano alla riforma delle banche popolari dovrebbe concentrare altri aspetti. Andrebbe anche ricordato per esempio che già da 22 anni dal testo unico bancario del 1993 non c'è sostanzialmente differenza fra le banche che operano sul mercato in Italia. Quindi bisognerebbe capire in realtà quali modifiche portare non tanto sul controllo di queste società di credito cooperativo ma quanto sulla loro modalità di operazione e di operatività sul territorio, come è stato già detto, per dare ancora più vicinanza e supporto al tessuto economico e sociale del proprio territorio. Io porterei l'esempio su, allora, si parla di, le banche popolari non sono esenti da concentrazioni di potere, possiamo citare vari casi, io vorrei citare senza fare nomi il caso appunto dei due valterinesi che hanno visto per decenni al potere gli stessi, possiamo definirli padri padroni, quali però sono stati anche giocoforza coloro che ne hanno determinato uno sviluppo notevolissimo, credo che sia l'unica provincia in Italia con un peso demografico così ridotto che ha due banche popolari di questa importanza e dimensioni, però basterebbe osservare che comunque questi personaggi hanno dovuto sottoporsi ad un voto ampio ad ogni loro riconferma, quindi in definitiva credo che se una riforma ci debba essere in questo settore ci dovrebbe essere per una maggiore vicinanza di queste banche al territorio. Grazie. Grazie.